Per questo incontro, malevole dalla sesta giornata, vi ritrovo a Gironia, LPM Banca Alpimarittime.b, Don Alessio Verato! LPM Banca Alpimarittime Con il numero 11, Hilary Harae Con il numero 13, Ludovico Guini Con il numero 14, Alice Danase Con il numero 16, Linda Mammani E libero con il numero 5, Francesca Napodano E l'allenatore, Bruno Napolitano LPM Banca Alpimarittime, Don Alpimarittime Con il numero 3, Atrizia Bacchiani Con il numero 6, Maria Flecker Con il numero 7, Laura Tavino Con il numero 9, Elisa Manette Con il numero 13, Greta Tagli Con il numero 15, Sofia Andrea E il numero 8, il numero 17, Silvia Agostino E il numero 9, Dante E il numero 5 E il numero 5, Maria Flecker Con il numero 7, Silvia Agostino Con il numero 7, Silvia Agostino Con il numero 10, Silvia Agostino Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.